Venerdì un convegno per parlare del problema della dimissione dopo un intervento all'interno di un ospedale. Di che cosa tratterà in particolare questo convegno? Dunque, innanzitutto grazie per lo spazio che ci date sempre. Noi come Soroptimist, un'associazione femminile presente a Spezia, ormai da 60 anni ci conoscete, abbiamo il grande onore di avere ospite il professor Franco Mosca. Il professor Mosca non ha bisogno di presentazioni, ci vorrebbe moltissimo tempo. Basti dire che il padre merito della chirurgia italiana è colui che ha introdotto in Italia la trapiantologia, è un chirurgo di fama nazionale e internazionale che ha effettuato più di 30.000 interventi e numerose pubblicazioni. La sua grande esperienza e la sua grande umanità la sta portando in questa direzione, senza tralasciare l'impegno dell'insegnamento e della professione, ha deciso di sostenere tramite la sua fondazione il progetto che appunto va ad aiutare il paziente nella dimissione. Il titolo che ha dato a questo incontro è infatti dall'ospedale per pazienti acuti alla medicina territoriale e ahimè con i suoi problemi sociali. Il problema della dimissione, l'ospedale che dopo un intervento, dopo un sostegno anche importante, purtroppo per i motivi che ben conosciamo, dimette in tempi molto brevi il paziente, spesso e volentieri lo lascia solo. Una volta tornato a casa è difficile trovare sostegno, trovare aiuto, trovare anche un supporto che possa aiutare nell'adegenza. E il professor Mosca, con la sua esperienza e i suoi collaboratori, sta portando avanti un progetto territoriale che andrà a coprire numerosi territori, probabilmente, anzi sicuramente anche il nostro, appunto per coprire questa che purtroppo sta diventando un'emergenza, un vuoto a cui il sistema non riesce a supplire più di tanto. Allora vogliamo ricordare dove e quando? Allora, dopo domani, venerdì 8 novembre, NH Hotel, via 20 Settembre, Ex Hotel Jolly, dalle 18 in poi.